Cosa nostra pronta a sfruttare la crisi generata dall'emergenza covid prestando soldi a usura interessandosi ad aziende sull'orlo della crisi offrendo aiuto a disoccupati e magari affiliando nuovi adepti è uno dei risvolti della maxi operazione della guardia di finanza di palermo che ha arrestato 91 tra boss gregari estorsori e prestanome di due storici clan palermitani i blitz sono stati portati a termine anche in toscana facendo suonare un nuovo campanello d'allarme sulle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose all'indomani dell'operazione vello d'oro della dda di firenze il blitz ha colpito i clan dell'acqua santa e della rene in manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei ferrante e dei fontana le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa estorsione intestazione fittizia di beni ricettazione riciclaggio traffico di droga frode sportiva e truffa lunghissima la lista delle attività commerciali sottoposte al racket del pinzo sequestrati anche beni del valore di circa 15 milioni di euro l'operazione ha interessato sicilia lombardia piemonte liguria veneto emilia romagna marche campania e toscana